ogni mattina è difficile trovare l'energia la motivazione giusta per cominciare la giornata i pensieri affollano la mente devo fare quella cosa devo incontrare quelle persone devo andare in quel luogo devo ricordarmi devo e se invece provassi a dire voglio voglio fare quella cosa perché mi rende orgogliosa di me voglio dire quelle parole per comunicare chiaramente il mio pensiero voglio andare ovunque e scoprire il mondo con occhi curiosi voglio ricordarmi che posso farcela che ogni pensiero ogni cosa che faccio ogni emozione che provo danno colore alla mia vita voglio sorridere di più agli altri e a me stessa voglio concedermi di essere stanca, delusa, arrabbiata e voglio essere forte, serena, bella voglio imparare ad amarmi un po' di più voglio prendermi cura di me stessa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti